San Cataldo si è vestita a festa per l'ultimo giorno di carnevale. Lungo il Corso Europa i bambini vestiti con i costumi carnevaleschi si sono divertiti tra coriandoli e stelle filanti, tra spettacoli di animazione, esibizioni canore e danzanti e alla fine sono state premiate anche le tre maschere di carnevale più belle. L'evento è stato organizzato dai commercianti di Corso Europa con il patrocinio del comune di San Cataldo. È stata un'iniziativa nata così spontaneamente, eravamo al bar qua di fronte da Patrizia, ci siamo riuniti e abbiamo detto perché non provare a organizzare qualcosa a noi. Tutto totalmente autofinanziato, ringraziamo il comune però per il patricinio, per il palco, per i gazzebi. Insomma, come prima esperienza penso che non ci possiamo lamentare.